il leggendario pugile muhammed ali entrerà nella hall of fame della wwe nella classe del 2024 ali è stato l'arbitro speciale del main event della prima vrestelmania e ha collaborato con la federazione in numerose altre occasioni la wwe ha annunciato la presenza di cm punk al row di chicago sua città natale del 25 marzo come vi ho anticipato in mattinata nella sezione community john cena sta facendo parlare il mondo perché si è presentato nudo alla cerimonia degli oscar per consegnare il premio alla categoria migliori costumi coperto solo dalla busta contenente il nome del vincitore dopo un rapido siparietto comico col presentatore della serata john è stato poi celato da una tenda e ha potuto annunciare chi si è portato a casa la prestigiosa statuetta per avere il tutto esaurito al row di stanotte mancano meno di 200 biglietti che dovrebbero essere staccati facilmente stando a vresteltex se così fosse si tratterebbe del settimo sold out consecutivo del brand rosso della wwe a confermare una corsa verso vrestelmania di enorme successo vi ricordo che stasera dalle 21 rispondo alle vostre domande sulla wwe lo faccio gratis in diretta contemporanea sul profilo youtube michele posa e sul canale twitch che porta il mio nome e cognome mi raccomando vi aspetto rob van dam ha detto che accetterebbe senza indugi la possibilità di fare da padrino a poleman per l'ingresso nella hall of fame da wwe aggiungendo però che per quel ruolo la federazione può trovare qualcuno di più adatto rispetto a lui contattata su twitter da una piccola fan in procinto di essere operata a causa del cancro natalia ha mostrato tutta la sua sensibilità promettendo alla bimba una chiamata privata sul zoom per fare due chiacchiere charlotte flair ha donato oltre 200 tra abiti e altri indumenti come le scarpe a chi si occupa di donne e bambini in difficoltà o indigenti al termine del live event svoltosi a la faiette in louisiana nel weekend set rollins ha dichiarato pubblicamente nel ring di non riconoscere il suo incasso del money in the bank avresta al mania 31 come un vero main event e che il match di quest'anno al fianco di cody rhodes contro roman reigns e the rock sarà la sua prima reale apparizione allo showcase degli immortali in una posizione così prestigiosa in un recente live event zelina vega e naomi hanno ricordato il mangaka akira toriyama il papà di dragon ball purtroppo scomparso pochi giorni fa mettendo in scena la tecnica della fusione come potete vedere dalla foto a schermo e la tecnica della fusione come potete vedere dalla foto a schermo e la tecnica della fusione come potete vedere dalla foto a schermo